Grazie a tutti. 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 Come si trova all'interno di questa esperienza? Cosa ne sembra? Mi trovo benissimo. La gente si infasi che si bagnonella. Il tempo è stupendo. Benissimo. Nel senso che il tempo è così rigido che le consente di girare il tempo. Che cosa ne pensi degli shopping center di Anstatt? Guarda, facciamo parlare al mio portafone. Bellissimo. Grazie a Stefano Peliteri. Ci vediamo con la prossima intervista. Grazie a tutti su Spreve Web TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.